Eccoci qua, siamo con Matteo Colangione, difensore centrale del Manfredonia Calcio 1932, classe 1987, 196 cm, il centrale di questa difesa, stagione sportiva 2020-2021. Ecco, Matteo, tutti quanti dicono che sia un onore giocare con il Manfredonia Calcio 1932. Sì, intanto grazie per il benvenuto. Comunque il Manfredonia è una piazza importante nel panorama calcistico. E quando ho avuto la chiamata da parte del direttore, del ministro e del presidente è stato facile poi trovare un accordo perché sono piazze in cui si vive di calcio ed è sempre un piacere giocarci. Ecco, ma tu hai giocato in tante piazze, anche molto importanti, sei stato protagonista poi della promozione del Cerignola dalla prima categoria fino alla Serie D, quindi hai maturato tantissima esperienza. Sono soltanto tre giorni di allenamento, quali impressioni hai avuto? Ma le impressioni sono positive, è una squadra giovane con qualche elemento di esperienza come me, Pasquale, Trotta, Leuci, Partipilo e quindi dobbiamo aiutare i giovani a crescere, però le sensazioni sono quelle positive. Ecco, il mister oggi ha provato la difesa, lui propende per il 3-5-2, oggi in effetti vi ha provati in 3, diciamo De Filippo, tu centrale e Burdo praticamente laterale destro. Insomma, cosa prediligi giocare con la difesa 3-4 oppure ti riesci comunque a essere duttile in tutti i moduli? Ma in questi anni ho giocato sia a 3 che a 4, quindi per me non è un problema, poi il mister ci ha spiegato che comunque non è un modulo standard, cambieremo e quindi dobbiamo essere tutti duttili per la causa, perché a seconda delle formazioni che andiamo a incontrare dobbiamo essere bravi anche a modificarci in corso. Ecco, da ultimo, insomma il campionato di eccellenza si è smistato in due gironi, insomma tu cosa ne pensi a proposito? Sarà un campionato un po' meno importante rispetto a quello a 18 o 16 squadre, che idea ti sei fatto? Sì, è una novità qui in Puglia, mentre nelle altre regioni diciamo erano già abituati, è un peccato perché si va un po' a perdere quel fascino dell'eccellenza che ti portava a giocare anche nel Salento, a Gallipoli eccetera, però comunque è un campionato in cui bisogna fare bene e bisogna lottare con tutti perché sarà sempre un'eccellenza insidiosa. Grazie mille. Grazie a voi.